Molto bene, oggi andremo a vedere come i narcisisti migliorano le loro tecniche di abuso. Allora, di solito, questo è l'atteggiamento che il narcisista o la narcisista assumono quando vedono che iniziamo ad allontanarci da loro, perché ci hanno trattato male, perché ci hanno svalutato e tutte queste cose qui. E quindi quando vedono che iniziamo ad allontanarci, perché non ci piace più come siamo stati trattati, perché abbiamo visto qual è la vera natura della persona con la quale stiamo interagendo, che cosa fanno? Iniziano a riproporci la falsa persona che ci hanno mostrato durante il love bombing. In questa maniera noi avremo l'impressione che probabilmente è stato soltanto un momento. Quando l'abbiamo visto, l'abbiamo vista, mancarci di rispetto, mancare di rispetto ai nostri genitori, mancare di rispetto al nostro figlio e alla nostra figlia. E quindi loro che cosa fanno? Questo è il momento in cui arrivano con la promessa di cambiare, con la promessa che questa volta staranno più attenti, hanno un problema che li sta stressando perché bisogna pagare il mutuo e quindi non riescono a capire come fare. E voi con tutte le vostre richieste, con tutte le vostre esigenze, li avete stressati, li avete messi in condizione di perdere il controllo. Quindi per questo è che hanno fatto quello che hanno fatto. Però adesso vi potete rassicurare, perché hanno una sorpresa per voi. Ecco il biglietto per andare al mare quest'estate, in modo da farsi perdonare tutti quei momenti in cui hanno preso il controllo, in cui vi hanno spaventati, in cui vi hanno fatto sentire smariti. E quindi adesso si ritorna alla normalità. Perché questa trappola funziona? Perché qui bisogna andare a vedere alcune delle caratteristiche delle vittime dei narcisisti, perché è lì che capiremo come mai questo rinforzo intermittente funziona. Quindi questa promessa di cambiare, di ritornare, a rimettere le cose come erano prima, che loro perdessero il controllo, funziona perché molto spesso le vittime dei narcisisti, oltre all'empatia, sono convinti di poterlo aiutare a cambiare. Sono convinti che se magari saranno più attenti in futuro, magari a stressarlo un po' meno, magari a farle meno richieste quando sapranno che sarà impegnato, lui o lei cambieranno. Hanno questa convinzione che è soltanto una questione di tempo e che probabilmente la persona che ha delle cose da sistemare è la vittima stessa. La vittima a volte anche la vittima assieme al figlio o alla fila della vittima. Se si tratta di una persona che il narcisista o la narcisista ha incontrato quando avevano già avuto un figlio con qualcun altro. Perché capita anche quello. Questo vale di più per i narcisista maschi. Perché quando vedono una vittima che è rimasta da sola con un bambino a carico, per loro è un segnale di vulnerabilità da sfruttare. Perché? Perché iniziano a ragionare. E da sola, quindi, ha probabilmente bisogno di qualcuno per tirare sul bambino o la bambina. Probabilmente ha difficoltà anche a gestire le spese, a mandare il bambino a scuola, ad aiutarlo, ad aiutarla a fare i compiti, gestendo anche il lavoro contemporaneamente, tutte queste cose. E quindi per loro queste sono le prede ideali. Perché oltre ai codipendenti, che sono le loro prede predilette, i narcisisti adorano le persone che sono vulnerabili anche per un discorso di situazione sociale. Non ho sempre un discorso di vulnerabilità psicologica. Perché a cascare nelle griffe dei narcisisti, sono anche persone che non provengono da famiglie disfunzionali. Molto spesso nei miei video, quando parlo delle vittime dei narcisisti, mi riferisco a quelle che provengono da famiglie disfunzionali. Ma non è sempre così. Non è sempre così. Perché, vi dirò anche di più, le vittime dei narcisisti possono essere anche psicologi o terapeuti. E qua parlo di quelli che magari non sono molto informati sulla figura dei narcisisti, senza togliere nulla alla loro professionalità. Perché comunque la figura del narcisista patologico rimane ancora una figura che non è compresa completamente. Ma questo perché? Perché molti di loro non vanno dallo psicologo o dal terapeuta per farci curare. Quando ci vanno, nei rari casi in cui ci vanno, è per andare a migliorare le loro tecniche. Vanno a vedere com'è che lo psicologo si mette a parlare con loro, il tipo di tone di voce che usa, il tipo di parole che usa per metterli al loro agio. Loro studiano queste cose, prendono nota e poi riusano questi meccanismi contro le loro vittime. Perché purtroppo esistono anche casi dove lo psicologo o il terapeuta rimangono vittime dei narcisisti. Quindi capite? Per questo che con queste persone bisogna sempre essere in alerta. Tornando al discorso, possono ampliare il tipo di vittime che amano attaccare. Perché a volte, questi di solito sono quelli maligni, ma quelli maligni proprio puri e duri, che cosa fanno? Vanno a cercare una persona che sanno che è difficile da convincere, che è difficile da manipolare, perché in questa maniera riescono ad allenarsi, riescono a migliorare le loro capacità, riescono a migliorare le loro tecniche. Vi ricordate il video in cui ho parlato dell'introspezione dei narcisisti? Che è un'introspezione che va a vedere come diventare più bravi a fare quello che fanno già. Se non avete ancora visto quel video, ecco qua il link. Così vi farete un'idea di com'è che il narcisista vede la sua introspezione. E quindi, alcuni di loro, anche per un discorso di sfidano, per un discorso di voglio vedere quanto sono bravo, perché se riesco a manipolare questa persona qui, che ha la reputazione di essere una persona che non si lascia fare facilmente, Se riesco quindi a distruggere e smontare questa persona, automaticamente verrò visto come migliore di lui o di lei. Cioè capite? Anche qua c'è il discorso della competizione. Per questo è che bisogna sempre evitare di svelare il tipo di persona che siamo ai narcisisti, il tipo di cose che facciamo. Loro ragionano così. Per poter brillare di più, qual è un altro modo per farlo? E sconfingendo qualcuno che reputano migliore di loro, qualcuno che ha una certa reputazione sociale. Infatti noterete che i narcisisti amano dibattere con persone che la sanno di più di loro. Ma non è un dibattito costruttivo, è un dibattito laddove loro in sostanza non dicono nulla. Passano il loro tempo soltanto ad annullare, a sminuire tutto quello che dice la persona che ha una certa reputazione, perché facendo così, agli occhi di chi sta guardando, sembra che il narcisista la sappia meglio. E quindi sembra che sta vincendo la gara. Ma quando andiamo a osservare attentamente le argomentazioni che il narcisista usa nei confronti della persona che sta sminuendo, non ce ne sono. Non ce ne sono. Ci sono soltanto insulti, derisioni e tutte cose così. Non è un dialogo, non è un dialogo. Però nel frattempo, loro hanno l'impressione di vincere. Hanno l'impressione che stanno sconfingendo questa persona con la quale stanno avendo il dibattito. E quindi facendo questo, passano per persone più intelligenti. Passano per persone che la sanno di più rispetto alla persona che stanno de facto umiliando. Perché alla fine, quando riescono a sconfiggere questa persona che riputano più intelligente di loro, non soltanto migliorano, perché riescono a capire come sminuere una persona, come attaccarla, come farla reagire in una certa maniera, dopo queste cose le vanno a usare sulle vittime che sono più vulnerabili. E quindi quando usano le rinforze intermittente, è anche un altro modo per potervi studiare, perché dicono ok, spero che provo prima a farle questo o farle questo. Così vedo se queste tecniche, coimparato, gareggiando con quell'altro o quell'altra, funzioneranno meglio a manipolare la mia fonte di rifornimento narcisistico primaria. E quindi lì iniziano a sperimentare, iniziano a stressarvi sempre di più, iniziano a sminuirvi ancora di più, aumentano l'intensità degli abusi. Ricordate perché dico che con queste persone le cose peggiorano soltanto? Perché il punto è questo, loro devono migliorare perché non sarete la loro fonte di rifornimento narcisistico primaria per sempre. Perché ci sarà un momento in cui si sentiranno annoiati, avranno volle di cambiare, avranno volle di provare qualcos'altro. E quindi per mantenere la forma si devono allenare. Per questo è che a volte li vedrete andare a provare a sfidare persone che non rientrano nel loro tipo di vittime classiche. Ed è anche per questo che vi sconsiglio vivamente di cercare di avere dei dibattiti con dei narcisisti. Anche se possono sembrare delle persone con le quali potete avere una conversazione costruttiva perché magari sono dei narcisisti cerebrali, evitate questa cosa qui perché oltre ad esporvi li state rendendo più forti, li state aiutando a diventare più bravi a fare quello che fanno già. Per questo è che quando riuscite a capire con chi avete a che fare, evitate anche di mostrargli o mostrarle le cose extra che sapete fare. Se avete dei talenti extra, non mostrateglieli, non diteglieli. Perché ripeto, oltre magari ad incitarli a volervi distruggere perché si sentiranno in competizione, a prescindere li aiuterete a diventare anche più bravi a fare quello che fanno. Nel caso in chi siete voi la vittima, vedrete che il narcisista o la narcisista ad una certa sembreranno migliorati di tanto a farvi gli abusi che vi facevano già e voi non capirete ma che cosa è successo. Sembra più cattivo, sembra più brava a mentirmi, ad ingannarmi, a prendermi in giro e perché si sono allenati con qualcun altro e adesso stanno provando queste cose su di voi e quando finiranno di avervi prosciugato per l'ennesima volta vi diranno ancora no dai va bene dai basta così ti chiedo scusa non rifarò più non fatevi prendere dei sensi di colpa non immaginate che è colpa vostra non datevi l'obiettivo di cercare di migliorare per compiacere a lui o lei vi ripeto non è colpa vostra non avete nessuna colpa e soprattutto le cose con queste persone non migliorano peggiorano soltanto e ricordate che quando avranno finito con voi andranno a fare quello che vi hanno fatto a qualcun altro per questo è che con queste persone non bisogna dargli più opportunità o cose così perché loro migliorano migliorano a fare le cose che fanno per fare un esempio se loro quando vi incontrano la loro abilità tipo da 1 a 10 e a 5 dopo che finiscono di farvi tutti gli abusi che vi faranno la loro abilità passa a 8 e quindi quando andranno da qualcun altro quell'altra persona subirà un'aggressione che partirà con un'intensità di 8 su 10 questo perché ogni volta che gli diamo un'opportunità di poter cambiare di poter capire in realtà loro ne approfittano per diventare più bravi quando invece chiudiamo la cosa subito dopo che abbiamo visto e che abbiamo capito con chi abbiamo che fare stiamo limitando la loro capacità a migliorare quindi non fatevi prendere anche da questa cosa che tutte le relazioni sono difficili è normale che si litiga in una relazione per carità non dico di no non dico che in una relazione non si può litigare ma non si può litigare sempre per via di una persona con la quale vedete che il vostro stato mentale sta sempre peggiorando la persona non cambia siete sempre a ripeter le stesse cose dopo un po' lo stufo arriva dopo un po' bisogna dire basta per la vostra salute mentale e per la vostra salute fisica non smetterò mai di dirlo perché ricordatevi per via di questi abusi qua si può anche perdere la vita quindi non pensate che siete stupidi o stupide non pensate che non state dando abbastanza alla relazione perché funzioni come si deve tutte queste cose sono bugie sono tutte bugie che servono soltanto a darvi la colpa in realtà di responsabilità che appartengono al narcisista o la narcisista e basta bene questo è tutto vi ringrazio per la vostra attenzione fatemi sapere come vi è sembrata questa puntata e ci vediamo alla prossima la prossima Grazie.